Rocambolesco salvataggio a Valfurva nel tardo pomeriggio di giovedì 31 marzo, quando una sci alpinista di nazionalità tedesca, nata nel 1974, si è infortunata mentre era nei pressi della Cima San Giacomo nelle Alpi Retiche Orientali. La donna faceva parte di un gruppo di sei persone, accompagnate da una guida alpina esperta. Lungo il percorso è però scivolata e ha riportato una probabile distorsione a un ginocchio, che non le permetteva di proseguire nell'escursione. La mancanza di segnale nella zona e il cielo coperto da nubi fitte avrebbero comunque impedito l'avvicinamento da parte dell'elicottero del 118. Il gruppo, per fortuna, era ben attrezzato e grazie alla presenza di un esperto della montagna ha attrezzato una barella con quanto trovato sul posto, con la quale la ferita è stata trasportata più a valle, dove sono riusciti a prendere contatto con i soccorritori e a posizionarsi in un luogo raggiungibile dall'eliambulanza. L'elicottero, con a bordo i medici e i tecnici della stazione di Valfurva, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha così raggiunto gli sci alpinisti. La 41enne è stata così trasportata a bordo e trasferita all'ospedale di Sondalo.